Proseguono gli scavi nella Valle dei Templi e non mancano le sorprese tra reperti inediti e preziosi affiorati in superficie. Gli interventi degli addetti ai lavori. Irene Milisenda. Ancora tante sorprese arrivano dagli scavi nella Valle dei Templi di Agrigento. Si è partiti con gli scavi archeologici che hanno portato alla luce il teatro lennistico di Agragas e si sta continuando a lavorare anche sul sito del Tempio Romano, con due importanti progetti che hanno riguardato il sistema di fruizione e la valorizzazione del quartiere lennistico romano, con particolare attenzione alla spa ritrovata l'anno scorso e l'altro invece che riguarda la ricerca nell'area del Tempio Romano e la ricostruzione di una porzione del porticato a nord del Tempio. Ascoltiamo l'archeologa Parello che questa mattina ha accompagnato da nostre gruppi tra gli scavi spiegandoci come stanno procedendo gli ultimi lavori. In realtà stiamo quasi completando la prima fase, diciamo la prima tranche di scavo archeologico nell'area. Lavoriamo qui da due mesi con una buona squadra di operai, coadiuvati sin dall'inizio da un gruppo numeroso di giovani archeologi che vengono a fare qui il loro tirocino dall'Università di Palermo soprattutto in questo momento e stiamo lavorando su due fronti. Da un lato abbiamo finito di svuotare il portico ovest dai resti della grande discarica che si distribuisce su tutta l'area del santuario ellenistico romano dopo la sua defunzionalizzazione e lo stesso lavoro lo stiamo facendo tra il portico nord e il Tempio, quindi nello spazio tra il portico nord e il Tempio. Contestualmente all'interno del portico in questo momento stiamo indagando i livelli che sono relativi alla preparazione, alla sistemazione della terrazza prima della costruzione del portico e contestualmente abbiamo individuato anche qualche traccia di frequentazione ancora precedente rispetto alla costruzione dell'intero santuario ellenistico romano. Questa prima fase dello scavo si concluderà la prossima settimana poi tutti quanti i nostri operai e i nostri archeologi che lavorano in cantiere andranno in vacanza per un po' e riapriremo il cantiere a inizi di settembre. Grazie ai finanziamenti che il parco archeologico è riuscito ad ottenere gli scavi sortiscono ottimi risultati, non solo preziose testimonianze rinvenute nella zona che si rifanno alla vita quotidiana dell'antichità, ma anche un reperto enedito, un gocciolatoio a forma di testa di leone, probabilmente risalente al primo secolo dopo Cristo, rivenuto nel lato est del portico, lascia pensare che si tratti di un doccione, un elemento architettonico figurato che aveva appunto la funzione di smaltire l'acqua del tetto della struttura. Ascoltiamo nel merito il direttore del parco Giuseppe Parello e il commissario Bernardo Campo. Si sta lavorando allacremente, devo dire, naturalmente la prossima settimana sospenderemo per le ferie agostane. Nel frattempo ci stiamo preparando alla ripresa autunnale con lo scavo ancora al Tempio Romano che proseguirà, ma con un altro scavo che abbiamo avuto finanziato all'interno del programma PON Cultura. È un finanziamento abbastanza consistente, intorno ai 3 milioni di euro, e riguarderà la ricerca nell'insula terza, dove attraverso le prime prospezioni fatte l'anno scorso è venuta fuori la prima terma agrigentina, quindi a partire da quella gli scavi si estenderanno, che prevederanno anche la possibilità di un nuovo sistema di coperture a protezione sia dei mosaici che degli affreschi presenti, e anche un nuovo percorso di visita che si connetterà con gli scavi del teatro e attraverso il cardoprimo che stiamo recuperando, fino alla via Sagra. La prospettiva è che nel 2018 sarà aperto il terzo varco, quindi una nuova biglietteria nella ex scuola rurale, in maniera tale da consentire anche un rapporto più stretto con il museo e con quest'area su cui stiamo lavorando alla cremente, diciamo che è quella soprattutto di periodo allenistico romano, che era la meno conosciuta nell'ambito agrigentino. Questo Tempio Romano ci sta riservando veramente delle sorprese incredibili. Siamo qui a scavare sulla base di un progetto redatto dal parco, siamo stati in grado di attrarre finanziamenti e la nostra capacità progettuale, la capacità progettuale del parco della Valle dei Templi è stata così premiata. Stiamo facendo veramente delle scoperte importanti. Abbiamo trovato ieri un doccione con testa leonina che ci aiuterà a capire meglio com'era l'area di questo Tempio, ma soprattutto quello che mi prende a dire è che tutto questo si può fare, è stato fatto grazie alla capacità del parco di poter attrarre finanziamenti. Noi siamo in grado, siamo stati in grado e saremo in grado, così come l'abbiamo fatto anche con il ritrovamento del teatro ellenistico, di riuscire a progettare per poter attrarre finanziamenti. Questa è quella cosa che a noi più ci importa perché senza queste risorse finanziarie non potremmo essere oggi qui a dare lustro a queste importanti scoperte.